Per dirla breve, perché rifondazione comunista che da un certo punto di vista partiva da una giusta comprensione di quello che fu l'ingloriosa svolta della Bolognina, che fu sostanzialmente la metamorfosi caffiana di una sinistra che si avviava a essere reintegrata pienamente nel sistema capitalistico. Infatti cancellarono anche la falce e il martello passando con una svolta botanica alla quercia, ricorderete, come se ci si vergognasse di due simboli rispettabilissimi che incarnavano il lavoro, non che le querce non siano rispettabili, però chiaramente per un partito che vuole essere comunista la falce e il martello ha una simbologia molto evocativa. Ecco, quindi compresero questo e tuttavia il comunismo rifondato da rifondazione comunista apparve ben poco rifondato in verità, se si considera che ben presto il partito stesso della rifondazione comunista in qualche modo si è risolto in figure. Come Fausto Bertinotti che nel 2014, non distante da qua, credo fosse a Todi, disse che alla fine il comunismo aveva fallito e che bisognava riconoscere al liberalismo la massima carica emancipativa. Sono parole sue che potete, o se pensate anche a Walter Veltroni che disse di non essere mai stato comunista, questa mi ha sempre colpito in effetti, perché uno può dire legittimamente sono stato comunista, non voglio più esserlo, legittimo, però dire che non sei mai stato comunista, a me ricorda quando in realtà lo era, ci sono le potere, nel bc, insomma, legittimamente, mi ricorda sempre due storie diverse ma che hanno qualcosa in comune, quella del fu Mattia Pascal, ricordate che a un certo punto decide che gli conviene cambiare identità perché non riesce più a sopportare quella precedente, si inventa una nuova vita e appunto non sono più comunista. Oppure quella di Apicella, ricordate Palombella Rossa di Nanni Moretti, Apicella ha un incidente ed è affetto da amnesia, non ricorda più il proprio passato. Non so se sia caso Apicella o caso Fumatia Pascal, però mi pare che questi tentativi di rifondare la sinistra non siano efficaci perché, come dire, nessuno di questi dice la cosa fondamentale, cioè che il capitalismo in quanto tale non va riformato, semplicemente limitato o migliorato, ma deve essere superato, deve essere superato in nome di qualcosa di diverso, tanto più che tutti questi partiti hanno a mio giudizio un erramento fondamentale nel loro codice, cioè l'ideologia del progresso. In qualche modo l'ideologia del progresso che è la peste ideologica che infetta la sinistra e che non era presente nel movimento socialista delle origini. Il movimento socialista delle origini non aveva alcuna simpatia per il progresso, anzi in molti casi lo detestava, fino a forme parossistiche come quelle luddistiche variamente ritornate nella storia del movimento operaio e socialista. Ecco, invece l'idea della sinistra è, e qui ha ragione Jean-Claude Michat, un autore interessante, consiglio la lettura del suo libro Il complesso di Orfeo. Cioè la sinistra ha il complesso di Orfeo. Orfeo non può mai girarsi indietro perché se si gira indietro perde o ridice, allora guarda solo avanti, è convinto che andare avanti sia necessariamente positivo. Ora, a mio giudizio, questa ideologia del progresso, che in qualche modo in una fase storica può avere una sua legittimità quando progresso ed emancipazione coincidono, ma oggi, in cui il progresso è gestito univocamente dagli agenti del capitale, quindi genera deemancipazione, guardare accettandolo al progresso ci porta all'accettazione della globalizzazione neoliberale sostanzialmente. Quindi bisognerebbe recuperare l'idea di socialismo liberandolo dal mito del progresso. Non ogni progresso è positivo. Ad esempio, siamo davvero sicuri che il progresso che ha portato all'Unione Europea e al superamento delle conquiste salariali sia autenticamente un progresso? Siamo davvero sicuri che privatizzare la sanità in nome delle magnifiche sorti del mercato sia un progresso? o bisogna conservare in questi casi? Chi è? Chi svolge una funzione democratica e socialista? Chi smantella in nome del progresso o chi conserva in molti ambiti e poi anche, ad esempio, nell'ambito ambientale? Bisogna oggi portare avanti lo sviluppo della tecnica e del capitalismo fino alla fine? o è veramente socialista chi conserva e difende in questo caso?